Ci può far capire, per onorare la verità, perché lei ha ucciso Giulia? Dirlo semplicemente con un motivo difficile. Penso che in quel momento volevo tornare insieme a lei, ritornare a avere un rapporto insieme. Di questo soffrivo molto e provavo il sentimento molto verso di lei. Ovviamente sbagliando, ma avevo rabbia. Perché sostanzialmente io soffrivo di questa cosa e volevo tornare insieme, lei non voleva. E quindi mi faceva arrabbiare che non volesse. E niente, c'è chi sta peggio ovviamente. E però io in quel momento lì incolpavo lei indirettamente di non riuscire a portare avanti la mia vita, di tutte queste cose qui. E da un altro punto di vista, per questo volevo che il nostro, non so, tra virgolette il nostro destino fosse lo stesso per entrambi. Ovviamente sono, sì, pensieri ingiusti. Dire, non so, soffro io, devi soffrire anche tu, non so, cose di questo tipo. Grazie a tutti.